Trenomerci! Eccolo! Uppete! Oggi abbiamo il treno per tutto il tempo. Il motore di treno coprirà la voce? Come faccio? Ed è scurcola, che è una meraviglia. Qua siamo nel pieno dei piani palentini. E' andato in quel discurcola, dove, ecco, qua siamo proprio dove combatterono Carlo D'Angio e Corradino di Svevia. Ecco l'arvelino e questa è questa. Ah, lì si vede. Però abbiamo beccato un po' di foschia. Mannaggia, perché è bellissimo. Uppete! Non è morto, eh! Dove? Dove porti? Dove porti? Fammi avvicinare la scurcola perché l'ho sempre avuta fatta la ripresa perché è troppo bella. Già è passato, già si è coperto. Ah, sul ponte, sul ponte. Quello è il Campania di Magliano, quello che siete là in fondo. Quello lì è Antrofano, se si vede con questa sua guadipossia. Ecco, dal ponte su... E poi questo si congiunge con il salto. Ecco qua. A voi scurcola massigrana. Dove Carlo D'Angio sconfisse con il ravino di Svevia. Il vecchiazzo sconfisse il giovinetto. Come da prassi. Tanto poi taglio. Ecco qua, scurcola bellissima. Non ti avvicini di più. Allora, finalmente. Guarda il campanile, guarda il campanile. Oh, sai che facciamo? Andiamo nella scurcola. Eh? Ristendiamo. Eh, che accorciamo, accorciamo poi. Sai, 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 ti faccio fare un giro stupendo. La chiesa di scurcola. Aspetta un attimo, voglio fare una ripresa che da qua dietro si vedeva meglio. L'ho visto proprio. Ah, c'è pure la bella ragazza. Guarda, qua si vede stupendamente. La chiesa e il castello. E il campanile pure. Adesso saliamo. Saliamo nel paese. Guarda, adesso c'è un fatto che non rompe le scatole. Andiamo, 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 andiamo. Ecco. Scurcola. Saliamo alla chiesa? Dove sta lì? Alla chiesa? Stiamo davanti alla chiesa? E poi a quale si è scosato? Ah, quella, quella, quella. Alla sinistra. Ma là, ci siamo proprio superiore. Va bene. Ecco qua. Qua si mangia benissimo, dice. Guarda, aspetta, aspetta, quando c'è troppo, ci arriviamo. No, la voglio vedere che se vede quando stai là così. Quanto arrivi qua. Volevo sempre venire a scurcola. Eccola, eccola là, guarda, pesce così all'improvviso. Cupaldo! Che fanno, chiamano? Telefono? Noi sempre qua passiamo. Qua abbiamo fatto pure le riprese, qua. Questa l'abbiamo fatta. Ecco che abbiamo svoltato. Bene, ci attende. Poi riscendiamo per le scale. E? Ok.